Con l'arma al mio fianco... Un pochino di più. Con l'arma al mio fianco tutta la Cina si inchinerà dinanzi a me. Avanzeremo fra tre giorni quando la luna è piena e la marea è alta. Ora, vecchia cara, perché non mi predici? La fortuna? Futuro? Stavo per dire il futuro. Guarda nella ciotola e dimmi che la gloria mi attende. Se continuerai sull'attuale cammino... ti ritroverai... in fondo alle scale. Io vedo. Io vedo. Io vedo. Dolore! E rabbia. Come no! Si è la migliore setta della provincia! Seguiti dal diniego. Questa non è divinazione! Stai dicendo? Quello che accade proprio... Ora? Il momento più importante è ora. Ma se davvero vuoi vedere il futuro... un pavone viene sconfitto da un guerriero nero e bianco. Nulla è cambiato. Nulla è cambiato. È impossibile. E tu lo sai. Non è impossibile. E lui lo sa. Chi? Lord Shen! Ho visto un panda! Un panda! Un guerriero kung fu. Combatteva come un demone. Grosso e peloso. Molle e morbido. Un peluscioso coccolo. Non esistono più i panda. Anche con la sua pessima vista, lui vede la verità. Come mai? Tu non riesci a farlo. Trova questo panda e portalo da me. Sì, signore. Ebbene, un panda vive. Questo non ti dà ragione? Hai ragione. Avere ragione mi dà ragione. Allora lo ucciderò. Così avrai torto. Lo vuoi smettere?